se vi piacciono i gialli polizieschi vi consiglio di scoprire un filone l'autore colin dexter che ha creato l'ispettore morse l'ispettore morse ruvido scostante intelligente deduttivo amante dei pub nella nebbia di oxford dove dove è appunto ispettore di polizia lui anche amante della musica di wagner e dell'enigmistica è goloso di birra di whisky e di donne sbagliate dico enigmistica e dico subito che colin dexter l'autore che ha passato gli 80 anni è un grandissimo esperto di enigmistica crea ogni settimana per una grande rivista inglese un cruciverba celebre e questa passione per l'enigmistica gli serve per creare queste storie con l'ispettore morse è uscito da sellerio l'ultimo romanzo della serie si intitola la strada nel bosco la strada nel bosco vi consiglio di leggerlo se conoscete gli altri comunque succede che questa volta l'ispettore morse è in vacanza nel dorset e un giorno sul times legge un annuncio strano un poema che parla ad una ragazza morta e quindi morse con intuito capisce che forse questo annuncio strano ha a che fare con la scomparsa di una fanciulla svedese un anno prima ma non entro nel merito di questa storia devo dire che se volete conoscere nel prosieguo poi dalla delle vicende di questo ispettore morse le vicende molto belle molto molto grovigliate con accenni anche di lieve humor britannico potete cominciare dal primo romanzo l'ultima corso per woodstock selerio è andato pubblicando via via in questi ultimi anni tutti i romanzi di questo ciclo che sono scritti molto bene e c'è soprattutto la scoperta di questo ispettore morse che come ogni investigatore che si rispetti ha un braccio destra il ruvido e fedele lewis morse ama appunto imbattersi in storie da vivere con con scetticismo è un uomo intelligente un po smagato un po deluso della vita amori ammaccati gli piace appunto la birra gli piace wagner ma soprattutto gli piacciono gli enigmi e li sa decifrare a me piace di questo ciclo certo anche l'intrigo la trama ma soprattutto l'ambiente oxford odore di foglie bagnate d'autunno i pub ma anche l'ora del tè la severità del degli edifici universitari le vecchie case insomma l'assonnato apparentemente assonnato mondo british della provincia oxfordiana così nobile però come provincia e poi l'irrompere del delitto della trama dell'enigma e questo ruvido apparentemente cinico sensibile ispettore morso un personaggio che non si può non amare allora vi consiglio di cominciare con l'ultima corsa per woodstuck e poi se avete letto tutti i suoi romanzi meno l'ultimo l'ultimo che appena uscito si intitola la strada nel bosco editore sempre selerio a 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